Da paese fantasma a borgo che sarà interamente ristrutturato con fondi del PNRR. 20 milioni di euro per il borgo abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni nel comune di Cavriglia, Valdarno Aretino. Unico progetto in Toscana ad essersi aggiudicato il maxibando per la rigenerazione dei borghi. Una soddisfazione enorme perché premia un lavoro che viene da lontano. Pensate che questo borgo che è interamente di proprietà pubblica è stato acquisito dall'amministrazione comunale di cui io peraltro facevo parte nel 2003 dall'allora sindaco Enzo Broggi. È stato poi in parte recuperato la parte sommitale, l'acropoli con il mio predecessore Ivano Ferdi con la realizzazione di un museo, il Museo Mine. E poi abbiamo continuato con questa amministrazione comunale a valorizzarlo, a cercare di attivare tanti processi di trasformazione come per esempio la realizzazione della Casa della Memoria. Un paese ricco di fascino che si affaccia sul lago di San Cipriano ha alle spalle una storia travagliata dall'ecidio nazista del 44 allo spopolamento per rischio crolli. Questo è stato il luogo peraltro di un cidio nazifascista perpetrato il luglio del 1944 da parte della Wehrmacht dove persero la vita 74 civili ma complessivamente nel nostro comune furono 192 uomini innocenti che furono uccisi. Ricordo che è la quarta strage in Italia in termini numerici. Nel tempo è arrivato a contare anche 500 abitanti. Oggi è completamente deserto. Queste risorse ci permetteranno di valorizzare questo luogo che è anche considerato in Valdarno il borgo dei minatori dove alla fine degli anni 70 le persone furono costrette all'esilio, furono costrette a abbandonare le loro abitazioni per tornare poco a monte in un paese nuovo costruito in quel periodo che è Castelnuovo dei Sabbioni perché appunto il vecchio borgo Castelnuovo in Avane, questo è il suo nome originario, veniva progressivamente eroso, veniva mangiato dall'escavazione del bacino lignitifero che era la base di questo paese. Oggi attraverso questo contributo straordinario di 20 milioni di euro questo paese rinascerà, ci sarà una sorta di rinascimento di quell'area e appunto abbiamo pensato in questo progetto di recuperarlo non solo implementando le attività culturali che già esistono, appunto c'è un museo, completeremo la casa della memoria, ma anche attraverso la realizzazione di un albergo diffuso e quindi turismo e poi ancora una residenza per gli artisti ed un museo di arte contemporanea.